Il dipendente, prima di accedere ai suoi documenti mensili, dà una votazione a quattro argomenti che l'azienda predispone. Quindi ogni azienda può predisporre quattro argomenti a piacere. È nata in provincia di Arezzo a Montevarchi la prima app che monitora la felicità e la soddisfazione dei dipendenti di un'azienda, fornendo così un feedback anonimo in tempo reale al datore di lavoro. Il dipendente si esprime ovviamente sul grado di soddisfazione lavorativa, quindi ambiente di lavoro, retribuzioni, mansioni e anche sulla possibilità di far carriera all'interno dell'azienda. Quindi c'è la volontà da parte dell'azienda di conoscere se il dipendente è un dipendente che è interessato a percorrere in maniera più lunga la sua attività lavorativa all'interno dell'azienda. Dunque un nuovo ed efficiente sistema di relazioni tra le controparti in cui i dipendenti e datore di lavoro si incontrano passando attraverso la tecnologia. L'idea nasce innanzitutto dalla richiesta di un nostro cliente che ha più strutture dislocate in un territorio abbastanza vasto, quindi la difficoltà di controllare sia le risorse in termini economici e manzionali, sia anche il grado di soddisfazione dei reparti. Quindi diciamo che loro ci avevano in qualche modo fatto percepire questa necessità e da lì è nata l'idea. Poi ovviamente c'è stata una consultazione con degli avvocati giuslavoristi, abbiamo richiesto alla parte sindacale se poteva essere una soluzione interessante. Ci hanno dato lo che è, perché in effetti va a toccare anche un po' il welfare aziendale. Quindi conoscere il benessere all'interno dell'azienda comunque è qualcosa che oggi fa parte un po' degli argomenti che si trattano negli ambienti delle risorse umane. L'applicazione si è giudicata il Contest Nazionale Professionista Digitale 2016-2017, promosso dall'Osservatorio del Politecnico di Milano. Nella categoria Consulente di Lavoro abbiamo ricevuto questo riconoscimento proprio per il progetto che si chiama Workforce and Satisfaction, quindi Forza Lavoro e Soddisfazione Lavorativa. Grazie a tutti.